che è appunto mia suocera dei libri storici e risalita insieme alla sorella di Mugareti alla Monadori dieci anni fa perché quest'anno abbiamo festeggiato i dieci anni del parco hanno dedicato questo parco dove appunto ci sono tutte le installazioni dove si legge le poesie questa qui è la Vila Veneta 1792 che appare appunto in etichetta e poi la faccio vedere anche me qui è Vittorio Emanuele a grandezza naturale sì 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 sì